ciao a tutti allora oggi noi apriamo un altro uovo l'ha scelto Asia l'ha scelto Asia l'uovo della Kinder eh sì oggi oggi ce la sarà dentro le Barbie apriamolo apriamolo si apriamolo come dice Asia apriamolo apriamolo dovete dire scarta la carta scarta la carta ti aiuto io amore brava fa vedere amore è un astronauta è una Barbie astronauta si e si esatto poi c'è il cappello si esatto wow cappello e facciamo vedere bene questa sorpresina che abbiamo trovato va così questo no si e poi credo che vada così mi sa che è sì c'è da montagli questo guarda guarda che qui ci sono i piedini ok poi mi sa che questo qui c'è il respiratore dell'austronauta quali e ce lo sta montando il papà vabbè intanto mangiamo un pezzettino di uovo questo va penso che vada qua questo va di qua esatto e poi oh ma che bello mi piace eh sì hai visto Asia il tuo bel uovo di uovo intanto Asia si è si è presa mezzo uovo Asia si è mangiata mezzo uovo ma cosa c'è il cofanetto del tesoro